Quando si parla di mondo marinaro si fa riferimento ad una figura protagonista di questo mondo che è il marinaio e lo è nel senso che rappresenta una tipologia umana veramente molto forte perché affronta il mare che è sempre piuttosto infilo, pericoloso, difficile da dominare ma dobbiamo considerare anche che nel mondo del mare esiste un'altra figura che non è alternativa all'uomo è complementare se vogliamo ed è la donna, una figura altrettanto importante e forse di più tanto è vero che qui da noi a San Benedetto del Tronto e negli intorni si parla di matriarcato riferendosi al mondo femminile. È un matriarcato che forse storicamente è esistito perché la donna è stata al governo della realtà familiare ma è un matriarcato che va anche in un certo senso interpretato perché ecco la donna era una supplente in realtà doveva supplire l'uomo che era assente per lunghissimi mesi anche a causa del lavoro del mare quindi la donna doveva farsi carico della gestione della famiglia ma non soltanto di questo doveva farsi carico anche di dare dei contributi economici perché il mondo del mare, il mondo della marineria era un mondo assolutamente povero dove la miseria costringeva alla fame le famiglie più bisognose ecco la donna si muove in questo mondo con un dinamismo veramente sorprendente noi a certe volte pensiamo che la miseria e la fame possano ridurre praticamente la capacità operativa di una persona e invece io direi che è esattamente il contrario la miseria voglio dire alimenta l'ingegno della donna in questo caso cosicché la donna riesce effettivamente ad essere non solo operativa a dare un contributo notevole alla gestione del mondo familiare i messieri della donna sono tanti perché ovviamente noi in genere quando parliamo di mondo femminile facciamo riferimento alla retara perché costruire delle reti, realizzare delle reti è un lavoro che è sussidiario rispetto al messiere del mare affrontato dall'uomo le reti servono per pescare e l'uomo con la sua barca va in mare portandosi dietro queste reti quindi retare innanzitutto retare perché fra l'altro è un lavoro che si può fare a casa oppure nelle piccole ruette del paese antico dove si viveva una socialità molto aperta le case erano piccole, erano brutte, erano povere anche esse e allora la rua, la strada, il mondo esterno era diciamo un universo aperto, più salutare e anche se vogliamo un pochino più allegro in quel mondo le donne vivevano insieme ai bambini perché i bambini poi come possiamo immaginare nascevano in gran quantità in un mondo in cui l'uomo era assente ma quando tornava aveva bisogno del calore, degli affetti familiari i bambini nascevano, dicevo, in gran quantità e i maschi avevano anche una capacità produttiva, chiamiamola così impensabile oggi come oggi se ci riferiamo al mondo dei bambini dico questo perché parlavo di retare le retare sono donne che lavorano lo spago lo spago è prodotto dai funai i funai lavorano all'aperto lungo i sentieri che sono lunghissimi e consentono di attorcigliare la canapa per farne appunto uno spago bene, la manovalanza più bassa come impegno aspettava il bambino piccolissimo il bambino doveva girare la ruota agli ordini del funaio che non gli risparmiava niente in realtà perché quel mondo imponeva delle regole abbastanza dure e i bambini erano sottoposti a quelle regole per cui se non obbedivano prendevano scapaccioni e altro finita diciamo questa fase di lavoro a terra i bambini sempre maschi venivano poi impiegati sulle barche come merè merè è un termine dialettale che sta ad indicare il mozzo di bordo e quindi i bambini al servizio dei paroni dei padroni delle barche e dei marinai più anziani dovevano anche sulle barche affrontare lavori se vogliamo ingerati erano gli ultimi nella scala sociale che era ribaltata rispetto a quella che può essere oggi noi oggi i bambini li mettiamo in cima a un mondo di attenzioni laddove invece allora erano proprio in coda e affrontavano i pericoli del mare come gli adulti tant'è che nei nostri registri della Capitaneria sono riportate notizie su un numero incredibile dei bambini naufragati e morti in mare a partire dall'età di 7 anni ecco questo era un po' il mondo originario in cui si muoveva la donna la quale aspettava il marito ma nel frattempo si educava anche a farne a meno se vogliamo parlare di un mondo di sentimenti chiaramente la devozione al marito era grande però è anche vero che l'assenza del marito consentiva alla donna una autonomia notevole che non aveva più quando il marito tornava a terra e il marito che tornava a terra mi fa un pochino anche specie dire questo perché io vengo da quel mondo lì e l'ho conosciuto per racconti familiari bene il marito che tornava a terra ovviamente aveva bisogno di sfogo per cui andava in cantina si ubriacava diventava violento e dicevamo nella sua ignoranza perché i nostri marinai non erano scolarizzati nella sua ignoranza poi faceva il tiranno imponendosi sulla moglie e sui figli che quindi vivevano in assenza del padre e del marito anche momenti di distensione maggiore questo non significa che non ci fosse un forte legame affettivo perché almeno io personalmente avendo avuto un padre che è stato sempre in mare e che non ha nemmeno assistito alla nascita dei figli perché era impegnato in lunghi viaggi ebbene comunque sia per noi la figura del padre anche assente era una figura di riferimento molto importante lo aspettavamo con gioia e con timore perché sapevamo che avrebbe imposto delle nuove regole al nostro vivere liberi allora e avrebbe richiesto rispetto laddove noi abbiamo avuto come tutti i bambini del mare un'infanzia assolutamente libera il mondo del mare il mondo femminile del mare non si risolveva qui anche se queste che ho citato sono le figure più importanti perché accanto a queste c'erano le pesciarole è chiaro il pesce tornava nel nostro porto il nostro porto è nato tardi nel 1907 a partire dal 1907 prima le barche tornavano sulla riva le donne aspettavano il ritorno delle barche e noi abbiamo questo mondo diciamo così primitivo ha ispirato molto sia la letteratura che l'arte pittorica e abbiamo molti dipindi che rappresentano le donne sul mare che stanno aspettando il ritorno dell'uomo e che si lasciano andare a gesti di grande dolore quando il mare diventa mosso è in burrasca e le barche o stentano a tornare o addirittura non tornano per niente il mondo femminile è stato punteggiato continuamente da naufragi e abbiamo donne rimaste vedove bambini rimasti orfani io stessa nella mia famiglia ho perso il nonno ho perso uno zio ho perso un cugino di mia madre che in lungorotte molto diverse hanno fatto un naufragio e sono morti in mare quindi se vogliamo era un mondo fatto come dicevo prima di povertà di fatica grandissima di attesa ecco è chiaro che il nostro marinaio evoca un po' la figura dell'Ulisse non solo dantesco ma anche quello omerico soprattutto la donna del mare che non tesse una tela ma realizza una rete può essere assimilata in un certo senso a Penelope che attende il suo uomo il ritorno del suo uomo non perde mai la fiducia in questo ritorno e nel frattempo deve gestire un rapporto difficile con i proci pretendenti con tutti gli altri che volevano praticamente sopraffare la donna fragile che fragile non era per impadronirsi del potere come Penelope le nostre donne hanno potuto vincere nella storia le avversità del mare mantenendo con il mare un rapporto di visione alla distanza la donna di San Benedetto non entrava in acqua se non in casi particolari non saliva sulle barche a differenza di altre donne del mare il mare lo osservava dalla costa nella celebrazione di questo rito chiamiamolo così dell'attesa e tuttavia è un'attesa che non ha logorato il rapporto dell'uomo e della donna con il mare ma semmai lo ha alimentato come San Benedetto oggi dimostra mantenendo con il mare un rapporto bellissimo che è fatto non soltanto di attività di pesca ma anche di turismo ma anche di balneazione noi San Benedetti siamo orgogliosi di aver vissuto questa storia grazie a tutti